E' molto, eh? Si chiama? Cosa faccio? Vado? Eh no, però così? Pausa, scena! Vado così a braccio? E guarda, perché non sapevo se ci fuori. E lei è la mia pettina. Pausa, scena! E che non mi ricordo come l'ho detta allora. Ok, è acceso. E questo è giusto. Ma tanti grandi neri della storia. Pausa, scena! La struggente opera... Vado? Cos'è? Se ne va a una delle parti più importanti della cultura musicale, e non solo quella, del secondo novecento americano. BANG! 24 dollari per comprarsi questa parte del pianeta che oggi chiamiamo Manhattan. MSG, Merzio Square Garden, Earl, The Pearl Monroe, The Black Jesus. Il teatro alle mie spalle ha storia e carattere. Qui invece è il Bronx. John si voltò. Chatman lo colpì due volte. Love saves the day. È il più rinomato. Campo all'aperto della storia del gioco. Qui si è cambiato. È venuto a giocare. Dr. J. And the crowd goes banana. Ma nha nha. No. 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 Grazie a tutti